Dal primo gennaio scorso c'è stata una mini proroga di dieci giorni, quindi scatta nella giornata odierna, alla fine del mercato tutelato per il gas, mentre per la luce si partirà dal prossimo luglio. L'entrata nel mercato libero, che in Italia è in vigore dal 2007, interessa 5 milioni e mezzo di famiglie, chiamate quindi da oggi a scegliere tra 20 fornitori di energia, comparando tariffe e offerte. I consumatori potranno trovare sul sito dell'autorità, la RERA, tutte le informazioni su che cosa accadrà, chi non effettuerà una scelta nel mercato libero riceverà una fornitura dal proprio vecchio fornitore, cosiddetta Placet. È sempre possibile comunque cambiare venditore e chi invece non lo farà avrà questo contratto per 12 mesi e poi dopo si rinnoverà. Non farsi prendere dalla fretta, suggerisce l'associazione Codacons, che ha stilato una lista di dieci consigli, invitando innanzitutto a non cadere nella trappola del telemarketing, sottolineando che non c'è una regola di risparmio valida per tutti, quindi a optare per la tariffa più adatta alle proprie esigenze, e ricordando che un contratto a prezzo fisso ha un costo più alto rispetto alle tariffe variabili, ma garantisce nel tempo la stabilità delle spese a parità di consumi. Occorre anche verificare la durata delle offerte, tutte le condizioni contrattuali e i costi praticati dal venditore addebitati in bolletta. Il passaggio al mercato libero non riguarda chi ha più di 75 anni, chi vive in condizioni economiche svantaggiate, chi è in gravi condizioni di salute, chi abita in strutture di emergenza a seguito di calamità.